Auguro a tutti voi una buona e santa domenica nel Signore. Oggi è la giornata mondiale del povero. Dobbiamo sempre riflettere e pensare che nel mondo esiste tantissima povertà. Ma forse, magari, anche in mezzo a noi, in questa grande famiglia, ci sarà qualche fratello, qualche sorella nel bisogno. Questa giornata ci deve sempre ricordare che il fratello è nelle mani dell'altro fratello ed è nelle mani di Dio. Ma il Signore, ce lo ricorda nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, si nasconde nel fratello che è povero, affamato, assetato, bisognoso. E allora allarghiamo il cuore. Questa giornata ci dice, ci chiede, ci esorta ad allargare il cuore. Chi ha un paio di scarpe in più, lo condivida. Chi può, aiuti. Vorrei affidarvi il Salmo di oggi, Salmo 15. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. La nostra vita è nelle mani del Signore. Ma anche la vita dei nostri fratelli è nelle mani del Signore. Ma il Signore opera attraverso le nostre mani, le nostre bocche, i nostri piedi. Vi invito a pregare insieme a me. Vi invito insieme a me ad affidare questa domenica al Signore perché la Sua benedizione scenda su di noi e su tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Voglio augurare una buona domenica a tutti, un abbraccio fraterno e un bacio.